Sono Maria Cioccaciani, infermiera lavorata dal 2016. La scelta di intraprendere come percorso universitario e cura in infermieristica nasce dall'esiderio di prendermi cura dell'altro e di seguirlo nella sua storia di malattia, nel miglior dei modi possibili, e trovo piena conferma nei vari tirocini svolti durante i tre anni di università. Una volta lavorata, ho deciso di arricchire il mio bagaglio personale con un master di primo livello in ambito pediatrico. Concluso anche quest'anno di studio, ho poi frequentato il corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche ed estetriche, con l'obiettivo di migliorare il mio livello di formazione. Ritengo infatti che ogni professionista, e in particolar modo per coloro che operano in ambito sanitario, sia fondamentale una valida formazione, non solo dal punto di vista delle conoscenze teorico-pratiche, ma soprattutto della professionalità, ossia della capacità di utilizzare quello che è il ragionamento scientifico, il pensiero critico e le competenze comunicativo-relazionali. La conoscenza è quella che ci rende veri professionisti, e le persone che assistiamo si rendono conto di questo valore aggiunto nelle cure che offriamo loro. Oggi, grazie alla FNOP e alla dottoressa Elena Miroia, mi viene offerta una grande occasione, quella di riprendere il mio percorso di studi con un master di secondo livello. Auspico che attraverso questo percorso di studi io possa implementare quelle che sono le competenze e le conoscenze già in mio possesso, con capacità di natura dirigenziale, economico-aziendale, per una gestione ottimale delle aziende sanitarie. Ritengo che ognuno debba perseguire i propri obiettivi e raggiungere i propri sogni, anche quelli che sembrano più difficili. Sono richieste motivazioni e impegno, sicuramente anche economico, ma grande è la soddisfazione nel raggiungere il traguardo personale e la soddisfazione negli occhi dei nostri assistiti.